Salve, volevo segnalare una vera discarica di rifiuti abbandonati salendo da San Michele verso il Bivio della Rosina. E' questa la nota puntuale arrivata alla redazione di Rete Veneta da un nostro telespettatore, che per aiutarci lega anche la posizione del bosco segnalata da un paio di puntini rossi. Forti delle indicazioni, non abbiamo difficoltà a raggiungere la località. Nel bosco, lungo la strada provinciale che da San Michele porta verso Conco, ai nostri occhi si apre una vera e propria discarica. Sacchi di plastica abbandonati, materiale di risulta di un cantiere come mattonelle e una sorta di tappeto arrotolato. Non mancano giacche da lavoro, una vecchia coperta, un cappellino. Non è la prima volta, ci racconta il telespettatore, che questo povero angolo di bosco si riduce così, nonostante il tentativo di dissuasione del cartello, inciviltà che non finisce qui. Percorrendo la strada per altri 200 metri in direzione di Conco, proprio all'altezza del bivio, ecco una piccola distesa di bottiglie e sacchetti di plastica, un contenitore, un sacco nero con dei piatti, persino un povero animale morto. Davvero un panorama desolante lungo una strada di collegamento frequentata da chi da Bassano si recchia in alto piano. Un degrado di cui speriamo le autorità possono farsi carico al più presto.